La qualità per noi di Lidl è un impegno quotidiano che da oggi arriva anche a Casa degli Azzurri. Solo il meglio della frutta e verdura italiana fresca, sicura. Buona! Questa settimana, fragole 500 grammi a 99 centesimi. Asparagi verdi 500 grammi a 1,99 euro. I segni dell'invecchiamento volano via con un soffio. Le macchie di età oscurano il tuo aspetto giovanile. Rimuoverle non è più un sogno con CryoClean. Nuovo metodo per rimuovere le macchie della pelle. Se ci sentiamo ancora giovani, perché sembrare vecchi? Mi chiamo Blonde. Riso Gallo Blonde. Il riso sempre al dente, ideale per ogni tipo di ricetta. Io non scuocio mai. Riso Gallo. Chicchi ricchi di fantasia. Più cerchi una soluzione semplice. Più amerai Dixan Duo Caps. Una sola cappa per una pulizia profonda ed un bucato fresco e brillante. Dixan Duo Caps. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini. Senza glutine. Senza lattosio. Senza zucchero. Bio. Un supermercato non è un'isola. Per questo noi di Conad siamo qui. Per verificare che la lavorazione sia fatta regola d'arte e il prezzo sia appetibile. Fino al 27 aprile, prosciutto toscano DOP, sapori ed intorni Conad a 19,90 euro al chilo. Conad, persone oltre le cose. Ci siamo fatti Happy Black. Sogna. Complimenti per l'organizzazione. E scegli quello che ti piace. Così chiami la tipa. Eh, dapperti. Ehi, Happy Black. Con Vodafone ogni giorno è un Black Friday. Con Happy Black hai sempre le offerte più esclusive. Attivano subito. Il primo mese è gratis. E tu cosa faresti? Senza un progetto sono solo materiali. Senza di loro è solo design. Senza Veneta Cucine. Sono solo cucine. Preparatevi a combinazioni mai viste prima. Caranto. I piani tecnici in ceramica e quarzo di Veneta Cucine. Bella la vita con Solarelli. Frutta e verdura dalle regioni italiane. Dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli. Solarelli. Dal produttore il meglio. Non sarà certo il sudore a fermarmi. Borotalco Active con tecnologia Odor Converter. Io corro. Lui si attiva. Io profumo. Vivi di più. Vivi Borotalco. Non sarà certo il sudore a fermarmi. Borotalco Active con tecnologia Odor Converter. Io corro. Lui si attiva. Io profumo. Vivi di più. Vivi Borotalco. Provongo un brindisi al fidanzamento di Carmelo e Flora. Stasera al solito posto. Lo convinco io tuo padre. Tu quello non lo sposi. Ti prometto che vado in Sicilia e gli strappo il sì. Ti prego. Perché tu puoi tutto. Più di ogni altro nel mondo. Voi datemi un'ora. E io vi faccio chassero in paese senza sparare manco un copo. Mi date il permesso di sposare vostra figlia Flora. E Carmelo. Un film di Piff. In guerra per amore. Domani 21 e 20. Rai 3. Un giorno in pretura riparte la domenica in prima sedata con il processo per la morte di Marco Vannini. Ho visto la pistola e ho chiesto a mio padre cosa fosse successo. E mio padre mi ha detto che era un colpo d'aria. Non c'è vergogna di dire questo. Scusatemi. Non è possibile. Qui non stiamo facendo chiacchiere televisive. Qui è il processo. Io oggi mi sento un uomo finito. Per me la vita non ha più senso. Un giorno in pretura. Un colpo d'aria. Il caso Ciontoli. Domenica alle 21 e 20. Rai 3. L'ABC di Sant'Anna presenta C come collagene. Sai che cos'è? È una delle più importanti proteine prodotte dal nostro corpo. È da tono, consistenza ed elasticità alla tua pelle. Prova Sant'Anna Beauty collagene idrolizzato. Un nuovo amico per la pelle. In Acqua Sant'Anna. Questo programma è presentato da Tende da sole Tempo Test. In Acqua Sant'Anna.